È scoppiato un drama tra i collegiali del Collegio 8 Tutti contro di me, tutto il Collegio 8 contro di me Sono volate parole shock Si ruba i ragazzi fidanzati Qualcuno in diretta ha detto che io rubo i ragazzi fidanzati Siamo di fronte ad un triangolo amoroso Ha scritto ad Elisa per fingere un'addizione Lei, lui, l'altra Perché l'ha lasciato io per un motivo molto grave sotto E mi aveva scritto per chiedere di lanciarci qualche frecciatina su TikTok Ok Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al Collegio numero 8 È scoppiato un drama tra tutti i collegiali Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di canco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto Gossip, drama e il meglio anche il peggio del Collegio numero 8 Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare Infatti a grandissima richiesta torniamo a parlare dopo giorni mesi anni del Collegio numero 8 Un'edizione che come vi ho detto qui su YouTube ma anche su TikTok non mi ha entusiasmato più di tanto Infatti non l'ho seguita più di tanto Ma, ma, c'è un ma grande quanto una casa come sempre Perché finalmente a distanza più o meno di un mese da quando è successo Un mese no, ma due settimane, tre anzi, tutte quante Vi parlo di quello che è stato il mega dissing drama supremo del Collegio numero 8 Oh mio Dio, sono super emozionated E la nostra storia parte proprio da una vecchia conoscenza Elisa Angius, lei del Collegio numero 7 Che ampiamente aveva fatto discutere qualche tempo fa Per via della sua liaison con Ryan Greco Anche lui collegiale del Collegio numero 8 però Bene, quello tra Ryan ed Elisa è, come posso dirvi, un amore abbastanza tormentato Infatti ha iniziato con moltissime critiche e con tantissime accuse Soprattutto nei confronti di Elisa Angius Ma andiamo con ordine Per sancire l'ufficialità di questa storia d'amore Ryan Greco aveva condiviso nelle sue stories un biglietto di andata per Cagliari La destinazione dove ovviamente si trova Elisa Angius E ha detto a presto amore per tutti quelli che pensavano che fosse solo hype Sì, perché ovviamente loro due sono stati aspramente criticati Anche in un video che vi lascio qui nella i di informazioni Parlavamo di tutte le accuse davanti a questo amore tra ex collegiali e non Bene, Ryan ed Elisa si attirano tantissime critiche attorno a sé Ma ad un certo punto l'affare si ingigantisce un po' Eh? Infatti che cosa succede? La nostra Elisa Angius inizia ad essere criticata, accusata di essersi messa in mezzo Nella storia tra Ryan Greco da una parte e dall'altra c'è lei Carmelina Iannoni, ex collegiale del collegio numero 8 Nonché figlia di Carmen Di Pietro Che cosa succede? Moltissime persone dicono Vabbè ma Elisa si è messa in mezzo E diciamo che ad accusare Elisa Angius sui social Sono stati anche degli ex collegiali del collegio numero 8 Stiamo parlando di Luca Galise e di Frida Schiavi Che in diretta insieme hanno anche scherzato e preso in giro questa coppia E cioè Ryan ed Elisa Che il primo bacio l'ha dato forse su Skype Ascoltiamo insieme ciò che hanno detto e poi lo commentiamo Guardate Mi sono baciati tramite schermo No raga hanno fatto il bacio su Skype Il primo bacio su Skype Ma sì ma non puoi dire ad una persona ti amo dopo due giorni che non l'hai manco mai vista Ed ovviamente di fronte a questo genere di battute fatte in diretta su Instagram A rispondere è stata la diretta interessata E cioè Elisa Angius che visto che si tiene in cecio in bocca Ha deciso di scrivere questo nelle sue stories Immagina non aver ricevuto abbastanza hype dopo il programma Essere finiti con pochi follower e andare a dire in una diretta che rubo i fidanzati Parlando tutto il tempo di me e accusandomi di fare hype E poi continua dicendo Le stesse persone che criticano dicendo che ho rubato il ragazzo a qualcuno Sono le stesse che mi cercavano per chiedermi consigli su come gestire Le critiche sapendo quindi che sono sempre stata una delle più criticate Ma comunque dopo aver visto che non andavano abbastanza bene i loro numeri sui social Andare a criticare me la stessa che dava i consigli Cioè se posso sentì no? Bene Ovviamente a rispondere a queste parole di Elisa Angius Che sono delle velate frecciatine È stato proprio Luca Galise Che nelle sue stories ha detto questo Non sei l'argomento preferito di nessuno Il tuo nome è stato fatto in una live E chiunque ha il diritto di esprimere un parere su situazioni di cui è a conoscenza O di cui gli viene chiesto un giudizio L'hype sei tu a volerlo Perché dopo ciò che è stato detto Il discorso avrebbe preso un'altra piega Se non fossi entrata a fare scenate per raccimolare due follower in più Quindi fatti un bel esame di coscienza Non ti dedico nessun'altra storia o altro Perché è quello il tuo intento Con questo chiudo qua e mi raccomando Non svegliamo il can che dorme Pace e amore Ma ovviamente a diciamo inserirsi in questo dissing sui social È stato anche l'ex fidanzato di Elisa Angius Gabriel Rennis Che appena sveglio dice Ma che bel buongiorno Non io che mi sveglio e mi ritrovo il telefono invaso Da dissing tra collegiali E ha messo pure sta emoji del teschio Del quale parleremo più avanti nel video E anche del circo Perché ragazzi Una baracconata unica eh Fatto sta comunque che a dire la sua È stato poi infine anche Chi è ufficialmente Il fidanzato di Elisa Angius E stiamo parlando di Ryan Greco Che riferendosi proprio ai suoi ex collegiali Ex compagni di collegio Ha detto questo Se hai voglia di criticare me La mia ragazza E la mia vita Ma soprattutto se non hai paura Di un dibattito con me Allora la prossima volta Invitami nella live Così mi diverto anche io A dirne quattro sulla tua fidanzata Essere Frida Schiavi Vi aspetto Non cercare scuse Insomma ragazzi Queste sono delle frecciatine supreme Che proprio Ryan ha condiviso sui social Ha detto chiaramente Beh insomma Non farmi dire qualcosa sulla tua fidanzata Che cosa stanno nascondendo Luca Galise e Frida Schiavi Questo Non è al momento dato saperlo Ma Entriamo nel vivo di questo drama Ad un certo punto Sui social Continuano ad essere fatte Tante Tante Tantissime Forse anche troppe Dirette Si parla ad un certo punto Del drama degli scheletri Perché a quanto pare Frida O qualcun altro Avrebbe mandato degli scheletri Delle emoji Con lo scheletro Proprio ad Elisa Angius Guardiamo insieme Più o meno Quello che è successo Visto che è stato detto Di tutto Ma non di tutto Guardate Ryan guarda Eh sì Ryan Elena dice di farla entrare Perché così Chiarite Dai fai dentro Beh no Scusatemi Scusatemi Fatemi parlare Fatemi dire una cosa Allora io l'ho cercata in privato Perché è andata a scrivere in diretta Io non devo fare gli show Non mi interessa niente Vabbè ma Non è che Secondo me ci puoi parlare Ma che vuol dire Allora Se vuole parlare Guardandoci in faccia Mi videochiamo Ma non è che parliamo in diretta Allora Fai entrare Luca Fai entrare Luca Che ti ha scritto anche meno No Non faccio entrare neanche Luca Se vuole anche lui Ci parla in videochiamata Non ho capito Ma perché devo far vedere a tutti Allora Luca Poi lei ti parla in videochiamata Poi vedete voi Diretta Beh avete parlato di me in diretta La prima cosa che sono andata a fare Era andare in diretta Visto che non avreste mai In chiusura in diretta Vabbè Tu hai scritto in diretta Ho brutte esperienze Nei litigi in diretta Ma secondo me No no Secondo me Dovresti farlo No 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 Sì sì Vai Elisa Un po' ci somigliamo Con due teschi Sapete perché lo sta dicendo Perché dovete sapere Che prima che Andassi in onda al collegio Mi sa che le avevo scritto io E le avevo detto comunque Buona fortuna Non mi ricordo che cosa le avevo detto Che tifavo per lei Comunque una cosa del genere E lei tipo mi aveva detto Guarda che cosa stanno scrivendo Nei commenti delle backstories Che li stavano scrivendo tipo Che era la mia coppia Una cosa del genere Che ci assomigliavamo Una cosa del genere Quindi sicuramente Sta scrivendo questa cosa Per quel motivo lì Alla fine ti mandassi dischi Ma che senso Cioè E secondo te Secondo te Che è assomigliata E tu Elena No Assolutamente no Ma perché tipo Tu ti reputi migliore Oppure perché No io non mi reputo migliore Perché non la conosco Cioè Mi hanno scritto In un paio di persone Muoviti entra nella diretta Perché stanno parlando male di te Stanno dicendo che rubi Ragazzi fidanzati Quindi ho detto cosa a Luca Perché mi hanno detto Che era stato lui a dirlo Infatti dopo un po' L'ha confermato E ho sentito che stavano chiedendo Un po' a tutti Che cosa Che cosa ne pensasse Cioè Che cosa ne pensassero Di una cosa E quindi l'ha chiesto Scusate Io Io sto impazzendo A me quando mi viene nervoso Poi proprio mi entra Mi chiamano Che questo è fuori Vabbè Allora Non vuole parlare Questa ragazza Non ci sa perché No ma sai La cosa che mi fa incazzare Non è neanche tanto Il fatto di Dei teschi O di lei Ma mi fa incazzare il fatto Che qualcuno in diretta Ha detto che io rubo I ragazzi fidanzati Io i ragazzi fidanzati Neanche li guardo Sicuramente Però vabbè Non sanno la situazione Non sanno niente Parlano giusto Perché hanno voglia di parlare Sono frustrati Tutti contro di me Tutto il collegiotto Contro di me No io Giuseppe Vabbè voi due Siete un caso a parte Io sto facendo hype Secondo tutta la gente in diretta Io sto facendo hype Io che devo passare Per la parte della ragazza Che ruba i fidanzati Ma tanto vale Almeno faccio hype Capito Però mi piace passare Per quella che ruba I ragazzi fidanzati Certo Vabbè Si ruba i ragazzi fidanzati Io Perché la gente Che cosa Cioè Ma poi sclerà così Commento con un teschio E lì sto facendo tutto per hype Ragazzi Come tutto quello Che ha fatto Da prima Insomma ragazzi Se voi avete capito qualcosa Fatemelo sapere Perché anch'io Che vi sto parlando Di tutto sta roba Non ci ho capito quasi niente Anche perché Insomma Troppe cose Troppe persone Che hanno parlato Fatto sta che La parola chiave Di tutto quello Che abbiamo appena visto È solo e soltanto Una Drama Oh mio dio Sono super emozionated E a parte tutta Sta baracconata Adesso andiamo avanti Perché ad un certo punto Le accuse Contro Elisa Angius E Ryan Greco Si fanno sempre più insistenti Insomma Ryan Ha tradito Carmelina Iannoni Che cosa Sta succedendo Ovviamente A parlarne Finalmente È proprio lui Ryan Greco Che in diretta Su Instagram Ha deciso Di raccontare La sua Versione dei fatti E soprattutto Ci ha spiegato Come e perché Si è lasciato Con Carmelina Guardate Che io voglio fare Hype Ma il primo Hype Loro hanno visto Che non se li cacava Nessuno E quindi Loro hanno cominciato A dire queste cose Di qua Io sono fidanzato Con lei Hanno fatto Tutte queste storie Finte Per fare un po' Di hype E poi vengono a dire A me Che voglio fare L'hype Io Sapete solo copiare Raga Potete solo copiare Brutte copie Siete solo brutte copie E basta Io con Carmelina Ci siamo fatti fidanzati Perché ci siamo fatti Fidanzati Non sanno Voi non sapete niente Perché io e Carmelina Ci siamo fatti Ci sono pure le prove Ciao 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 Io e Carmina Ci siamo fatti Ci sono pure le prove Se volete Le faccio pure vedere Non ci sono problemi Ed è così la situazione Avete capito raga E lui dice Tra me e Carmelina Io lo usavo Diceva queste cose di qua Ma lui non lo sa La discussione Mica vanno a dire Voi non lo sapete raga Ma tutte queste copie Che si stanno formando adesso Tra collegiali Siccome hanno visto Che Tra me e Carmina Funzionava Funzionava Hanno cominciato a fare Tutte queste storie Storielle Nuovi amici Vidanzati Tutte cose per alco Ovviamente in questa storia Per il momento Abbiamo sentito Solo e soltanto Una campana Quella di Ryan Greco Ma di fronte a queste Sue esternazioni Fatte in live Su Instagram Dall'altra parte Ovviamente c'è una persona Che scalpita Che non vede l'ora Di dire la sua Ed è proprio Carmelina Che Diciamo In tempo zero Pubblica Una sorta di reazione Alle risposte di Ryan Quelle che abbiamo sentito In diretta E lo fa pubblicando Un TikTok Nel quale racconta La sua versione Dei fatti Sulla fine della relazione Con Ryan Guardate Ciao a tutti Io ho sempre Voluto evitare Di fare questo video Ma purtroppo Ryan ha fatto il mio nome E ha detto solo cose sbagliate Quindi è giusto Che io dico la verità Innanzitutto Non è vero Che dice che abbiamo Deciso di lasciarci insieme Perché l'ho lasciato io Per un motivo Molto grave sotto Quindi non è vero Che dice niente di male No Partiamo dall'inizio Io e Ryan Ci siamo fidanzati Subito dopo il collegio Ci siamo stati insieme Tre mesi Poi cosa è successo Che lui è venuto Alla geniale idea Di scrivere ad Elisa Giusto per chiedervi Di fare hype Cioè ha scritto ad Elisa Per fingere una relazione Ma intanto Lui era fidanzato con me E ragazzi di questo Ne ho anche le prove Ma non le metterò Per privacy E soprattutto perché Ho rispetto di lui Nonostante tutto Io non ho niente contro di Elisa Anzi Mi sta pure simpatica Una bellissima ragazza Niente contro di lei Però diciamo che Accettare Di fingere una relazione Solo per Andare virali Non è molto carino Soprattutto se Quella persona È fidanzata Però Sicuramente Perché Elisa Ha accettato Perché Ryan Le ha detto Che io approvavo Che per me Andava bene Vabbè Io accecata Dall'amore di Ryan Ho lasciato scorrere Questa situazione Nonostante Ryan Sapeva bene Che io non ero Per niente d'accordo E che mi dava Molto fastidio Ma continuavo a fare Questi video Quando era più bella La Sardegna A fingere una relazione Quando era fidanzato Con me Mancandomi molto di rispetto Voi non sapete niente Perché io e Carmelina Ci siamo vicini Siamo vicini Ho pure le prove A voi A prove Perché ci siamo visti Dopo tre mesi Per letteralmente un'ora In cui lui ha fatto Solo TikTok Ragazzi Solo TikTok Io non ho fatto nemmeno uno Perché è logico Se non ci vediamo da tre mesi Non mi interessa niente Di far video E lui continuava a dire Dai ma fai video Fai video Quindi è logico Una persona del genere Pensa solo alla visibilità Perché in quell'ora Che ci siamo visti Lui mi ha detto In questa settimana Chiuderò con Elisa E ricomincerò a fare i video Con te Per questo si è messo A fare i video con me E io ovviamente Poi l'ho lasciato subito Detto questo Non ho intenzione Di dare altra visibilità Ad una persona del genere Che già gli hanno dato abbastanza Per me il discorso è chiuso Perché adesso sicuramente Lui farà un video In cui smentisce In cui dice che non è vero In cui si inventa altre cose Come se ne è inventate finora Io ho voluto vero Insomma Lo abbiamo capito Questa storia Dopo che Insomma È nata in qualche modo Al collegio numero 8 È subito finita Per via della distanza E per via di tante Tante altre cose Ma voi a questo punto A chi credete? A Ryan O a Carmelina? Beh Per rispondere a questa domanda Io vi invito Adesso a seguire Il mio video Perché sto per mostrarvi Sto per leggervi Alcune dichiarazioni Shock Di Ryan Che di fronte alle parole Di Carmelina Ha voluto mettere Qualche puntino Sulle i Ed è nelle sue stories Quelle di Ryan Che leggiamo questo Sono qui Non per smentire Ciò che ha detto Carmelina Ma per parlare Della mia verità Fin dalla messa in onda Del programma Sono stato additato Da tutti i fan di Carmelina E da coloro Che sostenevano Questa relazione Per il ragazzo Che l'aveva trattata male E l'aveva solo usata Io ho sempre tenuto A Carmelina E tra noi nel collegio È davvero nato qualcosa È per questo Che una volta uscito Dal momento Che la produzione Non mi ha dato La possibilità Di salutare I miei compagni Quando sono andato via Ho scritto una lettera A Carmelina Che attraverso la produzione Sono riuscito A fargli recapitare Anche se questa parte Non è andata in onda Può confermarlo Carmelina Così come la produzione E io stesso Avendo scritto La lettera Posso mostrarvela Con ciò voglio dire Che fin da subito Ho messo per iscritto I miei sentimenti A Carmelina Dicendole che la aspettavo fuori Una volta uscita dal collegio Dopodiché Ci siamo messi insieme Durante la nostra relazione Se ricordate Un giorno Elisa Quando ancora non ci conoscevamo Nemmai ci eravamo parlati Ha ripostato un mio video Così Come ha detto Carmelina Confermo che quel gesto Ha fatto nascere in me Un'idea Cioè quella di fare TikTok In accordo con Elisa Per lasciare intendere Che ci fosse qualcosa Tra noi E aumentare così La nostra visibilità Ma comunque c'è da sottolineare Che anche Carmelina Rispondeva ai nostri TikTok E dunque ha tratto beneficio Anche lei Da questa messa in scena Di ciò che ho fatto Non me ne pento Perché per me Era un modo Per aumentare La mia visibilità Purtroppo Non essendo figlio Di nessun VIP La mia strada Devo spianarmela da solo E se ciò significa Creare delle dinamiche Con altri personaggi pubblici Sono disposto a tutto Per quanto riguarda Il nostro incontro Io sottolineo Che non sarei Dovuto andare a Roma Non era nei miei piani Per me Vedere Carmelina Era difficile Non avendo ancora l'età Per viaggiare da solo Ho così approfittato Del fatto Che la mia palestra Di karate Doveva partecipare A una manifestazione Sportiva a Roma E mi sono aggregato Essendo lì Per un impegno sportivo Le ore che avevo a disposizione Erano poche Ma ciò nonostante Ci siamo organizzati Per vederci Non nego Che in quel poco tempo Che siamo stati insieme Ho fatto anche dei TikTok Ma questo perché Mi sembra ovvio Essendo diventati personaggi pubblici Ed essendo anche In un momento di picco Di crescita di follower Per la messa in onda Del programma È ovvio che io mi occupi Anche del mio profilo E se sono fidanzato Con una persona Ho anche la voglia Di mostrarlo A chi mi segue Ma che non mi si venga A dire che sono stato lì Solo per fare video Abbiamo anche passato Del tempo per noi E tra l'altro Le ho anche portato Un regalo Non so se lo ha ancora con sé Ma le ho regalato Una collana Con la mia iniziale Così che mi avesse con lei Anche quando non ci sono Perché capisco Che avere relazioni a distanza Non è semplice Le avevo promesso Che avrei chiuso La storia con Elisa E che quindi Non doveva preoccuparsi Ma Carmelina Una volta rientrata in Sicilia Ha voluto chiudere la storia E allora io Essendo libero Ho continuato a sentirmi Con Elisa Con cui poi È nato del sentimento Quindi che non si venga a dire Che Elisa è una ruba fidanzati Perché tra noi È nato del sentimento Solo dopo Essermi lasciato Elisa non si sarebbe mai permessa Di creare una storia con me Se fossi stato già impegnato Infatti Quando stavo ancora Con Carmelina I nostri messaggi Erano solo lavorativi In merito A che video postare Questa è la mia verità Questo è Ryan E con queste parole Lo abbiamo visto no? Ryan fa un po' Come posso dire Il punto della situazione Anzi Addirittura Cioè ci ha detto Chiaro e tondo Che sì Certe cose Io le ho fatte Solo e soltanto Per aumentare La mia visibilità Perché questo è quello che voglio Questo è quello che voglio Ottenere dopo il collegio Durante il collegio Insomma Queste sono state Le sue parole La sua versione dei fatti E fatemelo dire Io ci vedo Della sincerità Perché una persona Pubblicamente sui social Se qualcosa vuole nascondere Di certo Non si mette a dire Ragazzi Guardate Sì I video che avete visto Eccetera eccetera Sono stati pubblicati Solo per fare hype Quindi anche ammesso Di aver fatto questa cosa Per hype E non vi nego Che io di fronte a questo genere Di parole Gli credo Perché mi sembra sincero Ma non finisce qui Perché ovviamente A parlare in tutta questa vicenda È finalmente L'altra Perché abbiamo lui Ovviamente Ryan Lei Carmelina E poi C'è l'altra Questo triangolo amoroso Si conclude proprio con Elisa Angius Che in un video pubblicato Su TikTok Ha raccontato Fuori dai denti Quella che è la sua Di verità E adesso L'ascoltiamo Guardate Ho fatto un dovere Di dare la mia versione Dei fatti Per la situazione Che si sta creando Allora Non avrei mai pensato Di dover Poi ritrovarmi un giorno A fare un video Dove parlo Dei miei Personali Però qualcuno Parla dei miei Personali Prima di me E quindi mi sembra giusto Parlarne anch'io Comunque Se non sapete Di che cosa sto parlando Potete tranquillamente Scrollare Perché è meglio Che non lo sappiate Veramente Io sto facendo questo video Per le persone Che sanno Quello che è successo Per le persone Che non hanno Un'idea chiara Della situazione Che purtroppo Poteva benissimo Non essere minimamente Eccitate Invece adesso Bisogna addirittura Chiarirla Allora Già qualche giorno fa C'è stato Un litigio tra me E un ragazzo Del collegiotto Di cui non parlerò In questo video Assolutamente Non è l'argomento Del video Anzi Se lo potete dimenticare Quello che è successo Anche meglio Perché io Non credo Che mi ritroverò Spero A doverne più parlare Però comunque Insomma In poche parole È stata detta Una cosa sulla mia persona Falsa Da una persona Che non c'entrava niente Tra l'altro Assolutamente Puoi dall'altro Dire che io Mi sono messa in mezzo Grazie al cazzo Amore mio Sei tu che hai citato Il mio nome Non su una cazzata Perché hai detto Comunque una cosa Abbastanza grave E non potevi pretendere Che io non ti avrei Detto niente O che non mi sarei Difesa pubblicamente Davanti a un'accusa Però Non è quella La vicenda Di cui devo parlare È un'altra In questa vicenda Centriamo io Carmelina E Ryan Lo dico senza problemi Quindi io dico Ok Che c***o Centrava Gabriele Rennis Cioè ma io posso capire Che le persone da fuori Sono liberi di esprimere Il proprio parere Ci mancherebbe Ne ho ricevuti tanti Di insulti nella mia vita Tantissimi Ma io dico Tu Il mio ex Ok Il mio ex Che c***o Entra nella situazione Che c***o Hai chiesto niente Che c***o Hai chiesto di farci un video Per dire la tua Che c***o Hai chiesto di mettere A fare i balletti suave Per dire che cosa ne pensi Di me e Ryan O della situazione Tra me e Ryan E Carmelina Che c***o Hai chiesto niente Scusatemi Cioè Tra l'altro Com'è che con Ryan E poi vai a mettere Un video del genere Che chiaramente Non è un video Che è amorevole Nei nostri confronti Però non importa Comunque questo è per dire Che se è una vicenda Tra me e altre due persone Non c'è bisogno Che si mettano in mezzo Altre persone Per fare ancora più Perché a quel punto Se veniamo accusati Di fare hype State facendo i polli Perché vi state aggiungendo Allo show Veniamo al dunque Visto che vi devo Dalle spiegazioni Carmelina ha fatto un video Ok Dove diceva Che Ryan Aveva detto Delle cazzate Perché Ryan In una diretta Ha detto Che si sono Che hanno deciso Insieme di lasciarsi Invece è stata Lei a lasciarlo Non mi pare Una cazzata così grave Però vabbè E dove diceva Che la cosa più importante Del video Che io e lui Abbiamo finito Una relazione per hype Udite udite Abbiamo finito Una relazione per hype Ed è qui Che arriva il discorso Il racconto della situazione E il motivo Per cui sto facendo Questo video Ok Ora il telefono dritto Comunque Ve ne parlerò Come se ne stessi parlando Una mia amica Cercherò di essere Il più sincera possibile Con voi Sto parlando Già troppo Comunque Allora Quindi Carmelina in questo video Ha detto che Io e Ryan Stiamo fingendo Una relazione per hype Allora Allora c'è un fondo Lo so Lo so Può sembrare Può sembrare una cosa Un po' brutta Posso capire Se mi mettono I vostri panni Non è sicuramente Una cosa Bella Da sapere Però Non si parlava Di fingere Una relazione per hype Ragazzi Si parlava di lanciarci Qualche frecciatina Stupida Però voi non sapete Che io avevo un debole Per Ryan Già da prima Nel senso che Quando io Mi ero andata a guardare Le backstories Del collegio Lui era il ragazzo Per me Più bello Tra tutti i collegiali E io subito Ho detto Questo è davvero Un bel ragazzo Per me Però dopo Io Dopo anche aver ripostato Qualche suo video Ho saputo che stava Con una ragazza E quindi mi sono messa Le mani in tasca E ho tolto il ripost Per dire Quanto io ci provi Con i ragazzi fidanzati Quando lui mi ha scritto E lo sapeva Carmelina E mi ha chiesto Di lanciarci queste frecciatine Io ho detto Guarda Io porto rispetto Alla tua ragazza Gli ho fatto Se la tua ragazza Non è d'accordo No Ovviamente Mi ha detto Che comunque La ragazza lo sapeva E che In qualche modo Gli andava bene Io Ovviamente Non è che potevo sapere Molto Gli ho detto di sì E ci siamo lanciati Qualche frecciatina Allora Le uniche frecciatine Che sono state fatte Mentre lui stava con Carmelina Sono state Le prime Insomma Proprio le prime Quindi quella Dove io ho messo Quando è un malessere Inizia per R E un'altra E basta Perché poi Qualche Tipo il giorno dopo Si sono lasciati Lui e Carmelina Carmelina l'ha lasciato Con più precisione Visto che L'ha detto anche lei E quindi Noi abbiamo continuato a parlare Io ovviamente Ero davvero interessata a lui Ok Ho evitato anche di dirlo Ovviamente Essendo fidanzato E anche lui Era interessato a me Ovviamente Magari Questo non lo so Non mentre stava con Carmelina Però comunque dopo Sì Tramite telefono Tramite Skype Come dice il nostro grandissimo amico Tramite Skype Ci siamo baciati Vabbè È nato veramente qualcosa E tutti i video che vedete Non sono video fatti Per hype Cioè Ma a parte che Le frecciatine iniziali Da parte mia Non sono stati per visibilità In realtà Non sono stati per visibilità In realtà Io l'ho fatto Cioè Sì anche Però Capito Io ci sono stata Questa cosa Sapendo che anche questa Ragazza era d'accordo E allo stesso tempo Però a me piaceva lui E non lo sapeva Né Carmelina Né Ryan Ryan l'ha saputo Dopo Quando si sono lasciati E non è che gli ho detto Guarda che mi piacevi Non ho messo le frecciatine Perché mi piacevi davvero No Dopo abbiamo iniziato A conoscerci veramente Abbiamo iniziato A chiamarci tutti i giorni Abbiamo iniziato A legare davvero Tramite un telefono A breve ci vedremo E ci piacciamo a vicenda C'è poco da dire È chiaro ragazzi Per chi dice Non potete amarvi Senza esservi Esservi Sì Senza esservi mai visti È chiaro ragazzi Che non ci possiamo amare Senza esserci mai visti Sono la prima a dirlo Se lui mi dice ti amo Io gli dico ti amo Sì magari sbagliamo a dirlo Senza magari Senza dargli il giusto valore Cioè È proprio Un ti amo Un ti amo Stupido Un ti amo Tipo mi piaci molto Ok Mi piaci molto Però non ci siamo mai visti È chiaro Non sono delle videochiamate Ovviamente a farvi vedere Però noi comunque ci sentiamo Tutti i giorni Videochiamate Messaggi In chiamata Ci sentiamo sempre È come se proprio Fossimo fidanzati Per dire Cioè Ci portiamo rispetto a vicenda Abbiamo già litigato Tantissime volte Per dire In così poco tempo Quindi nulla È questo il riassunto Della storia Sì sicuramente Abbiamo un po' sbagliato Entrambi Però Da un gioco Da delle frecciatine Nate per gioco È nato Un amore Vero Forse Chissà Questo si vedrà Col tempo Carmelina Io sapevo Che era d'accordo E in realtà Era d'accordo In parte Anche se lei dice Di no Perché Comunque Era d'accordo Ma vabbè Facciamo finta di niente Mi dispiace Se non Se non vedete Ryan e Carmelina Ma vedete Siamo e Ryan Pazienza Ce ne faremo tutti quanti Una ragione Non abbiamo finito Una relazione per hype Ci siamo mandati Delle frecciatine Inizialmente per hype E non erano Ancora Minimamente Cioè Non erano minimamente Riferite a una relazione Si capiva Che non era una relazione Dopo quando avete visto Qualcosa Che poteva essere Una relazione Era perché veramente Abbiamo iniziato A conoscerci Per avere una relazione Stop Insomma ragazzi Che vi devo dire Un triangolo amoroso Che ha lasciato Tutti quanti noi Sulle spine Col fiato sospeso Insomma Una cosa è certa Carmelina Insomma Ha visto svanire Questo amore Questa relazione Con Ryan Che invece Ha voluto aprire Il suo cuore Ad una nuova ragazza E cioè Elisa Angius Al momento Quello che mi chiedo è Ma Ryan Riuscirà ad andare Da Elisa? Questo lo scopriremo Soltanto nelle prossime settimane Visto che per il momento Da quello che so Non ci sono ancora visti O almeno Questo è quello che so Arrivati a questo punto Però adesso Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate? Da che parte state? Elisa Angius E Ryan O Carmelina? Fatemelo sapere Ovviamente qui sotto Nei commenti Come sempre Ed il video Può finire qui Spero che vi sia piaciuto E se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao Ciao